via cesare abba e emergenza rifiuti ma anche topi tutti i topi ci stanno perché buttando la spazzatura si è dei colori si è dei bianchi buttano la spazzatura e topi non si può stare con la puzza che c'è in giro qui siamo proprio vicino alla chiesa certo perché la vicino alla chiesa buttano la spazzatura e nessuno si interessa cosa chiedete adesso chiediamo di fare le porte dove sono aperte di chiudere le porte così la spazzatura non la butta le topi non ci sono in giro perché c'è troppo puzza di rimuovere anche questi rifiuti e rimuovere questi rifiuti che ci stanno in giro in tutte le case vecchie abbandonate questi ci dicevano sono stati conferiti nell'annottato comunque poche ore fa in questa strada le buttano la spazzatura della mattina fino alla sera buttano tutto buttano quali sono le vie particolarmente interessate da questi problemi la via palestro dove ci sono tutti i cani che la gente non si vergogna a dirlo perché sono gente di lì sotto e vengono a rapire le case e mettono i cani e i bambini che prendono la spazzatura o prendono una bambolina se la mettono addosso buttano tutto buttano vediamo anche qui una fontana che non funziona da tempo ma già tre anni questa fontana che non funziona mica odora tre anni c'era la fontana che funzionava l'acqua c'era ora niente più come si vive da queste parti un pochino male non gli dico assai pochino male malissimo troppo male improvire cosa vorrebbe dire agli amministratori ma di giustare oggi stare le case o le sdrupano di più di questo non possono fare e la spazzatura devono togliere di più se il sindaco si interessasse nella provere tutte queste cose non c'erano